ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di 3b meteo lunedì attenzione perché è molto alto il rischio di neve al nord italia possiamo osservare come tra il 27 e 28 dicembre difatti un vortice freddo molto profondo sarà posizionato tra regno unito e francia direttamente arriverà dalla lontana greenlandia e richiamerà sull'italia correnti molto umide di libeccio da ovest sud ovest cariche di umidità quindi nuvolosità e precipitazioni piovosa il centro sud stante un netto rialzo delle temperature ma al nord ci sarà un cuscino freddo che resisterà probabilmente al nord ovest per tutto lunedì quindi abbiamo segnalato domenica sera notte e poi anche in vista il lunedì mattina nevicate che scenderanno su valle d'aosta piemonte lombardia piacentino in pianura neve più copiosa anche sotto forma di rovesci sulla lombardia occidentale e le langhe quindi basso piemonte nevicate a quote molto basse anche tra savona e genova per quanto riguarda invece le venezie qui la neve potrebbe cadere inizialmente grazie alla bora scura sulle pianure venete e friulane durante la nottata di domenica e poi c'è da valutare il possibile richiamo meridionale di scirocco che tramuterà la neve in pioggia pioggia invece prevalente sulla romagna con netto aumento delle temperature però tutti i dettagli di questa evoluzione molto dinamica li trovate scaricando l'app di 3b meteo visitate gli articoli sul nostro sito web